Maria Stella Costan con la sua opera Passione in giallo. Maria Stella puoi spiegarci il perché del titolo? Il titolo è La libertà, il giallo, i colori, che a me piace tantissimo il giallo e poi è un fatto su olio, su tela, con olio, un 40x80 e io ho voluto far vedere la felicità di una persona, della gente. Hai rappresentato questa ballerina? Un vestito fatto con i fiori praticamente ed è tutto. Bene, grazie allora per aver partecipato a questa mostra. Siete state gentilissime e tutti bravissimi. Grazie.